La crotone! Col mini-mè! Anche il mini-mè! Carinissime! Parla il mini-mè o parli tu? Forse crotone! No, grazie a tutti, veramente è stata una cosa fantastica insieme a questi birichini qua una gioia incredibile e grazie a tutti, sono emozionato e tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico E allora la chiamiamo!